Espostiamoci a Foggia, esposizione internazionale delle macchine agricole tenutasi in occasione della Fiera dell'Agricoltura proprio a Foggia, una importante occasione di confronto sul futuro del comparto. Cinque giorni per parlare di agricoltura e di politiche agricole a tutto tondo. Questa la sintesi della 67esima edizione della Fiera internazionale dell'Agricoltura della zootecnia tenutasi a Foggia. Un tavolo virtuale che ha riunito produttori, tecnici, organizzazioni di categoria, associazioni e soggetti pubblici. Tra gli attori principali presenti all'appuntamento tradizionalmente dedicato ai macchinari e alle attrezzature agricole, Federuna Coma, la federazione nazionale costruttori macchine per l'agricoltura che ha curato il padiglione dedicato alla macchina agricola e organizzato workshop e attività collaterali con l'obiettivo tra gli altri di presentare la 42esima edizione di EIMA, l'esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio. La partecipazione a Foggia è anche propedeutica alla prossima edizione di EIMA che si svolgerà a Bologna a novembre dal 9 al 13 e quindi qui siamo venuti dagli amici pugliesi proprio per presentare e per divulgare l'informativa di EIMA e sperando che vengano numerosi a visitare EIMA la prossima edizione. Grazie a tutti.